È un fiume in piena Oreste Giurlani, ex primo cittadino di fabbriche di Vallico ed attuale sindaco di Pescia. Il prossimo 27 ottobre ci sarà l'udienza per il suo possibile rinvio a giudizio per peculato, ma ospite della trasmissione Dido, Giurlani ha ribadito la sua innocenza e ha detto di attendere con serenità il giudizio. La sto vivendo con serenità e tranquillità perché io ho sempre detto che sono innocente, quindi aspetto anche favorevolmente rinvio a giudizio perché potrò dimostrare la mia innocenza nelle aule giudiziarie proprio perché quello che mi è successo è stata una cosa che mi ha fatto passare veramente dei momenti terribili, bui, forse ho toccato il fondo, però grazie alla forza d'animo che ho, al fatto che ho sempre detto che sono innocente, dallo stesso modo grazie all'amice, ai familiari, a tutti quelli che mi sono stati vicini e poi la gente di Pescia che mi ha sostenuto e l'ha dimostrato alle elezioni sono ripartito e questo mi ha dato la forza di tornare sindaco a Pescia. Giurlani ha poi parlato a ruota libera dei progetti sul territorio, in particolare su Collodi, ha annunciato che a maggio dovrebbe essere pronto l'ampliamento del parco di Pinocchio nella zona occupata fino a ora da alcuni vivai. Giostre e divertimenti che consinteranno l'apertura anche serale del parco e porteranno da 150 a 400 mila il numero di visitatori annui su Collodi, con ricadute anche sui comuni limitrofi. Per questo diventa urgente, ha detto, togliere dal centro del paese il transito dei tir diretti alle cartiere di Villa Basilica. Il progetto è quello di farli passare da Via dei Pasquinelli, trasformata a doppio senso di marcia, e poi da un ponte che dovrà essere costruito dietro l'ex cartiera Panigada e che si collegherà direttamente alla provinciale. Un'opera dal costo di circa 2 milioni di euro, fattibile, ha detto Giurlani, in pochi anni. Il sindaco, rispondendo a Confindustria, ha poi definitivamente chiarito che non è previsto nessun blocco parziale del traffico pesante su Collodi.